Lo sapevi che la Primo Sole è concessionaria ufficiale per Catania e provincia? Oggi farò una chiacchierata con gli amici della concessionaria Primo Sole per conoscere i veicoli Fiat Professional, gli allestimenti e le motorizzazioni. Ti presento tre dei nostri veicoli Fiat Professional top di gamma per i loro segmenti Ducato, Doblò e Fiorino. Tre modelli con tante possibilità di personalizzazione in termini di dimensioni, motorizzazione ed allestimento. Hai sentito? Affidati agli esperti della concessionaria Primo Sole una consulenza mirata e tecnica specializzata esclusivamente nel settore dei veicoli commerciali ed industriali. E accompagniamo i nostri clienti con servizi a 360 gradi Eseguiamo manutenzione ordinaria e straordinaria su tutti i mezzi Fiat Professional grazie ai meccanici specializzati della nostra officina e qui si possono acquistare ed ordinare i pezzi di ricambio. Il nostro servizio è unico. Caro professionista, cosa aspetti? Se cerchi veicoli, assistenza o ricambi Fiat Professional il posto giusto per te è Concessionaria Primo Sole